bene 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 qui è Radio Muscletto e ora parliamo nello show di ora parliamo il secondo di oggi lo sentirete la canzone Garantino 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 no adesso è una canzone dopo questa sentirete il numero è il numero iscriviti al nostro canzone grazie a tutti 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 bene 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene 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 qui è Radio Muscletto grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Mancano 2 minuti e 5 secondi alla fine del nostro show per oggi. Grazie a tutti. 5 secondi alla fine del nostro show. E' peccato che oggi non c'è né barzellette né news né metro quindi non sapete cosa fuori. E quindi adesso a 25 secondi è finito il nostro show quindi è finito il show per oggi. Domani forse alle 20 come oggi perché oggi ne ho preparato. Gli applausi! Grazie! 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 Grazie!